hai bisogno? hai bisogno qualcosa? non ho capito, ah vuoi andare fuori, poi dopo vuoi entrare vuoi andare fuori? vuoi andare fuori, poi dopo vuoi entrare, hai visto qualcosa, hai visto qualcosa? non fammi vedere la tua bocca che è troppo, troppo, troppo grande ma che neadas, ma che power, ma? parla parla dai lana parla dai forza tu lamenta sempre che c'è? ah, buipane buipane no eh no eh no eh no 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 eh no eh no no ma dove è il corpo? giù giù no 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 hai già mangiato hai già mangiato capito sì 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 che è?